E buongiorno pilota o buonasera pilota a seconda di quando vedi questo video benvenuto in un nuovo aircaffè. Ebbene sì sono in villeggiatura però volevo assolutamente darti delle notizie che ho trovato sulla rete e che ritengo molto interessanti, molto appetitosi per questa estate 2021. Oggi è il 12 agosto quindi troverai questo video appena riesco a caricarlo vista la connessione un po' ballerina che c'è qui all'Isola d'Elba ma che comunque insomma riesco assolutamente a mandarti a farti vedere sulla rete. Tre notizie ti voglio dare oggi, una che riguarda gli sviluppatori dell'MB339 che si chiamano India Foxtrot Eco, hanno pubblicato cose interessanti, poi ti voglio parlare delle ciacche guide, avevo già parlato di queste guide che io utilizzo anche per fare i miei tutorial e per imparare tante cose appunto su Digital Combat Simulator e sui vari moduli che trovo in giro. La terza notizia riguarda invece il rilascio della nuova versione dell'Open Beta, se non sbaglio è la 2.7.5.1.8 eccetera eccetera, comunque trovi tutto in link in descrizione dove puoi avere appunto il changelog completo. Insomma, tre notizie interessanti. È il caffè Old Style perché non taglio niente ma soprattutto parlo, faccio una chiacchierata con te nel tempo, come dico sempre, della degustazione di un buon caffè. Insomma, un po' e di quattro chiacchiere da bar per stare insieme anche in questa estate 2021. Prima di cominciare ti ricordo di lasciare un bel mi piace, di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e di spuntare anche la campanella. Ti ricordo che è possibile sostenere il canale attraverso i tuoi acquisti su Amazon partendo dal link qui sotto in descrizione e poi che da un po' di tempo a questa parte ho un canale Telegram sul quale pubblico notizie, riflessioni, curiosità riguardo la simulazione di volo in generale. Cominciamo con la prima notizia che riguarda appunto India Foxtrot Eco, gli sviluppatori dell'MB339. Mi ha contattato Giuseppe Didiano che saluto e ringrazio per una piccola presentazione su un mio vecchio video che avevo fatto. Avevo detto che insomma India Foxtrot Eco era legato in qualche modo alle frecce tricolori virtuali, invece sono due diciamo così progetti paralleli ovviamente che non fanno a battaglia fra di loro ma insomma che è una collaborazione che c'è perché Giuseppe fa parte anche delle frecce tricolori virtuali ma stanno sviluppando diciamo da soli questo nuovo progetto. Interessante ci sono un sacco di video che girano su Facebook ma la notizia che voglio dare è il fatto che ho notato che proprio nella loro pagina è presente anche una fotografia dello sviluppo del G91 la versione precedente riguardante appunto l'MB339 cioè il mb339 ha fondamentalmente soppiantato il G91 tant'è vero che c'era anche il G91 Pan. Bello questo sviluppo, interessante perché insomma gli aerei vintage su Digital Combat Simulator sono sempre stati ben accetti, sono sempre stati molto utilizzati insomma ganzi da utilizzare e interessanti da volare. Passiamo alla seconda notizia che riguarda invece le check guide, guide che ho utilizzato e che utilizzo tantissimo per i miei tutorial, si sono aggiornati con la versione appunto del Mi24P in Eind. Questa nuova guida è stata pubblicata il 10 agosto quindi oggi è il 12 quindi appena due giorni, appunto due giorni fa. Per questa guida è interessante per quanto riguarda anche l'utilizzo del Multicrew che non è sempre semplice e facile proprio perché lo In, intanto c'è una zanzara che mi gira qui intorno, lo In, appunto, si vola anche in due. Veramente ganzo da provare, avevo fatto anche un tutorial per quanto riguarda l'accensione, valla a vedere anche perché ho rimesso mano a tutta la nomenclatura dei miei tutorial, quindi lo troverai in questo. Poi terza ed ultima notizia è stato rilasciato il nuovo aggiornamento per quanto riguarda l'open beta. Open beta che è la versione di DCS che gira di più sui server, anche sul server LoRaire, e che si aggiorna soprattutto per quanto riguarda l'F18 che ormai, come dico spesso, sta arrivando alla fine dell'early access, quindi sta diventando sempre più stabile, se così si può dire, quindi completo. Stanno aggiornando anche pesantemente l'F16 che sarà un modulo da tenere molto sott'occhio e che sto utilizzando tantissimo in questa estate 2021. Aggiornamento per quanto riguarda anche lo Inde, cioè il Mi 24P, la V8B, quindi l'Arier, e anche il Mirage 2000. Mirage 2000 che sto tenendo assolutamente sott'occhio perché credo che lo acquisterò molto presto, in quanto rispetto alle versioni che uscirono inizialmente ha avuto un restyle molto pesante, molto completo. Un velivolo da tenere sott'occhio, di solito non lo compravo perché avevo già l'F16, lo ritenevo abbastanza simile, in realtà non è così, quindi presto vedrete anche il Mirage 2000, appena ci sono un po' di sconti perché, come sapete, non acquisto niente mai di solito a prezzo pieno su Digital Combat Simulator. Poi comunque saremo a vedere. Aggiornamento, questo dell'ultima versione, appunto dell'Open Beta, che riguarda anche le Mare Anaheim. Sono state aggiornate tantissimo, mi ha deluso un pochino invece l'aggiornamento per quanto riguarda la Supercarrier. So che forse voglio troppo perché mi aspettavo di vedere anche la sala briefing, se così si chiama. C'è la possibilità di andare in questa sala all'interno, appunto, della Supercarrier e fare i briefing insieme a tutti gli altri piloti. Speravo di vederlo, questo aggiornamento, molto presto. Così non è stato, così non è neanche in questa ultima versione. C'ho la mano che mi fa male da fare schifo. Quindi, insomma, vedremo quello che sarà nei prossimi mesi. Speravo di vederlo già adesso. Non è stato così, non è così. Comunque, aggiornamenti ci sono, sono sostanziosi, sono interessanti. Anzi, lasciami qua sotto tutte le tue riflessioni, i tuoi pensieri, perché mi fanno sempre piacere. Ti lascio anche qui sotto tutti gli aggiornamenti, anzi tutti i link riguardo sia le check guide che questo changelog dell'ultima versione di DCS. Quindi ti può fare sicuramente comodo e può essere interessante. Quindi, diciamo che dall'Isola d'Ebba è assolutamente tutto. Spero di riuscire a fare altri video. Passata la moto, quindi, come ti dicevo, non taglio niente. Quindi ti ricordo di lasciare un bel mi piace, di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e ovviamente spuntando anche sulla campanellina. C'è la possibilità, appunto, come ti dicevo, di sostenere il canale anche abbonandosi, ma anche e soprattutto attraverso i tuoi acquisti su Amazon qui partendo dal link qui sotto in descrizione. Mi raccomando, iscriviti anche al canale di Telegram, insomma, tante cose per rimanere insieme in questa estate 2021. Per oggi è tutto. Happy Landings by E-Live. Ciao!